Benvenuti a meteogiulianci.it. Da oggi fino a domenica tempo invernale sull'Italia perché ci saranno piogge diffuse tutti i giorni su gran parte della penisola per l'arrivo alla Spagna della perturbazione numero 6 di ottobre e domenica arriva un nucleo di aria polare che porterà freddo intenso e nevicante fino a bassa quota sui rilievi alpini e sull'appennino emiliano. Ma vediamo l'immagine del satellite delle ore 8 di questa mattina, vedete la perturbazione numero 6 che ormai ha già raggiunto l'Italia. Che tempo allora farà oggi? Questa è la situazione del mattino, diciamo solo nuvole sulle regioni del medio adriatico al sud, invece piogge sulle regioni di nord ovest, su Toscana, Lazio e Sardegna. Vediamo la situazione prevista per il pomeriggio, piogge diffuse su tutto il nord Italia, piogge sulle regioni tirreniche, piogge e qualche temporale anche sulla Sardegna. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno in calo di 3 o 4 gradi al nord e 2 o 3 gradi al centro con valori massimi intorno a 13-18 gradi al nord, 18-21 al centro, 20-24 al sud e sulle isole maggiori. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buongiorno.